Continua l'ondata di caldo torrido sulla Campania. L'anticiclone africano porta ancora temperature bollenti e umidità con picchi compresi tra i 37 e i 40 gradi. Secondo le previsioni non ci sarà alcun miglioramento almeno fino a ferragosto. Il Centro funzionale della protezione civile della Regione Campania ha prorogato l'avviso di criticità per ondata di calore fino a sabato 3 agosto. Sono previste temperature massime che potranno essere superiori ai valori medi stagionali di 3-5 gradi, in particolare sul settore interno, associata ad un tasso di umidità che soprattutto nelle ore serali e notturne sul settore costiero potrà superare anche l'80% e in condizioni di scarsa ventilazione. Le autorità locali competenti sono invitati a porre in essere le procedure di propria pertinenza relativa alla vigilanza per le fasce fragili della popolazione. Si raccomanda di non uscire nelle ore più calde della giornata, di non esporsi al sole o praticare attività all'esterno e di limitare gli spostamenti con l'auto. Particolare attenzione devono prestare i cardiopatici, gli anziani, i bambini e i soggetti a rischio, tenere sempre correttamente arieggiati gli ambienti, provvedere a tenersi idratati bevendo acqua, prestare attenzione anche agli animali domestici.